Papa Francesco. L'amore di Dio vince ogni paura. Il Papa Francesco ha incontrato la comunità nigeriana Roma, esortandoli a mantenere uno spirito di universalità e ad evitare l'isolamento culturale. Ha ringraziato la comunità per la loro testimonianza del Vangelo e ha lodato i giovani che hanno abbracciato la vita consacrata con generosità. Il pontefice ha sottolineato l'importanza della diversità culturale come un dono che arricchisce la Chiesa e la società, nel suo complesso. Ha avvertito contro il pericolo di chiudersi in un isolamento tribale, esortando tutti a essere inclusivi e a coltivare l'universalità anziché limitarsi alla propria cultura.Francesco ha raccomandato il dialogo come strumento per affrontare i conflitti e le difficoltà che affliggono molte regioni del mondo, compresa la Nigeria. Ha offerto le sue preghiere per la sicurezza e l'unità del paese e ha invitato alla promozione del dialogo e dell'ascolto reciproco.Infine, il Papa ha esortato la comunità a praticare la misericordia e la compassione, seguendo lo stile di Dio, per creare solidarietà e armonia tra tutti i nigeriani.Inoltre, Papa Francesco ha enfatizzato l'importanza di essere annunciatori della misericordia divina e di lavorare per la riconciliazione e il sollievo dei più bisognosi. Ha sottolineato che lo stile di Dio si manifesta attraverso la vicinanza, la compassione e la tenerezza, incoraggiando così tutti i nigeriani a camminare insieme nella solidarietà fraterna e nell'armonia. Questo messaggio di inclusione e accoglienza riflette l'impegno costante del Papa per promuovere la pace e la cooperazione tra i popoli di tutto il mondo.